Ancora bentrovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, 6 km di coda per veicolo in avaria, tra Firenze e Inprunita e Cisareggello in direzione sud. In Fipilì 1 km di coda per lavori tra Ginestra e Montelupo in direzione mare. Ricordiamo che si tratta di interventi di messa in sicurezza all'altezza del turbone. Prudenza per pioggia su gran parte della Toscana, raccomandiamo di moderare la velocità e di mantenere la distanza di sicurezza. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, tra i lavori al via questa settimana segnaliamo quelli di asfaltatura in via Santa Maria Marignolle e via di Scandici e quelli al sottopasso ferroviario di via Mariti. Tutti i dettagli e i provvedimenti di mobilità sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Infio è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, un viaggio. Grazie a tutti.